Amici di Milan.soccer ben ritrovati, eccoci un nuovo appuntamento dedicato al Milan, dedicato a voi, beh dunque per cominciare la solita raccomandazione, l'iscrizione al canale, da qualche parte c'è scritto iscriviti e poi il like a questo video e all'attivazione della campanella per rimanere sempre aggiornati, sotto invece se volete sapere di più sulla seconda squadra di Milano, Milan Futuro, il Milan Under 23, c'è il nostro nuovo canale, guardatelo, magari vi iscrivete anche lì, è tutto gratis, grazie davvero a chi lo farà, sempre in descrizione, poi il sito per scaricare la musica, copyright free. Allora, il campionato sta per arrivare, è vero noi siamo ancora concentrati sulle amichevoli americane che sono andate e stanno andando particolarmente bene, quindi faccio un applauso al nostro mister che per fortuna ridà un po' di dignità in termini di visibilità in giro per l'Europa, quando abbiamo fatto questi amichevoli con la scusa che poi alla fine non contano nulla, se non per fare cassa, però abbiamo fatto delle ampie, clamorose figure di M puntini puntini. Questa volta ci siamo tolti delle piccole soddisfazioni e rispondo a qualche cartonato per dire, quando ho sentito dire, il Milan ha vinto contro la primavera del Manchester City, ha vinto contro la primavera del Real Madrid, dico due cose, la prima è che noi non abbiamo per nulla schierato la squadra titolare, quindi semmai ci sarebbe da dire anche contro la primavera del Milan, contro la primavera sia con il City sia con il Real Madrid e comunque non fare battute, soprattutto sulle sconfitte con il Manchester City. Bene, detto questo, vediamo un po', sabato 17 agosto, ore 20.45, a San Siro il nuovo Milan di Paolo Fonseca. Esordirà in campionato con il Torino, prima ci sarà il 13, il trofeo Silvio Berlusconi contro il Milan di periferia, il Monza, e cioè con Nesta, Gagliani, Maldini, beh, che proprio come la formazione rossonera ha cambiato l'allenatore, passando da Ivan Iuric a Paolo Vanoli. Il percorso del Milan lo tralasciamo, vediamo come va il percorso del Milan intendo pre-campionato, l'abbiamo appena detto, lo conosciamo, come se l'è cavata il Torino fino ad adesso. I Granata si sono comportati piuttosto bene, migliorando partita dopo partita non solo nei risultati, ma anche e soprattutto nelle prestazioni. Dopo la prima sorprendente sconfitta contro la Cremonese, scusate un po' di mal di gola da aria condizionata, sconfitta contro la Cremonese con i Lombardi che sono riusciti ad imporsi per 2 a 1, il Torino ha prima pareggiato 0 a 0 contro il Lione e poi vinto contro il Metz, anche in maniera abbastanza netta, imponendosi per 3 a 0, grazie alle reti di Capitan Zapata, Lazzaro e Ricci, sì il nuovo capitano è proprio Luis Zapata. Quello contro i francesi però non è stato l'ultimo incontro del Torino prima dell'esordio in campionato contro il Milan, visto che il prossimo 11 di agosto la formazione di Vanoli esordirà anche in Coppa Italia sfidando allo stadio olimpico Gran Torino il Cosenza. E va bene, vedremo quello che succederà, insomma il Torino fa un buon precampionato, anche noi stiamo facendo un buon precampionato, non è la partita che avrei desiderato come esordio per quanto a San Siro, però dobbiamo incontrarle tutte prima o poi e staremo a vedere quello che succederà. Allora, arrivo alla questione di copertina. Beh, che cosa sta succedendo? Mi sto informando relativamente alle indagini perché sono ancora in corso, no, non sono chiuse, sono chiuse quelle federali. La giustizia federale è un conto, la giustizia ordinaria è un'altra. Quando hanno chiuso la questione della procura federale, pensavo potesse essere imminente anche la chiusura della procura ordinaria. La cosa non sta accadendo, però insomma la vita degli indagati continua, come nel caso di Gazzidis e compagni. Vi terremo aggiornati. Perché dico questo? Perché in questo bailam di ex nomi mi sono imbattuto in questa piccola telenovela tra Frederick Massara e il buon Pioli. Arriviamo subito alla questione. Sembrava fatta tra Pioli e la Litiad con una firma clamorosa di 18 milioni di euro di ingaggio, ma dopo una crisi interna tra l'allenatore ed alcuni giocatori che non volevano Pioli, o meglio, che volevano più Blanc, ecco che la Litiad ha fatto la sua scelta. Per quanto riguarda invece il futuro di Stefano Pioli ci interessa molto poco, un po' ci interessa, però molto poco, ma vi spiego perché ci sarà una piccola vendetta. Perché Stefano Pioli firma in questa settimana un contratto, è pronto dunque a tornare in campo e lo farà grazie proprio a Frederick Massara che è il nuovo direttore sportivo del REN e ha scelto Stefano Pioli in panchina. Ex dirigente del Milan, lo aveva già scelto insieme a Paolo Maldini al tempo ed ora è pronto a lavorare anche con lui. Chissà che non troveremo Paolo Maldini al REN. No, non c'è nessuna notizia, non c'è nessuna indicazione, è una mia fantasia, voglio vedere Paolo da qualche parte. Secondo quanto riferito da fonti più o meno ufficiali, cioè organi di stampa francesi, questa settimana sarà una settimana decisiva. Il REN dunque ha scelto e inizia tra virgolette la sua campagna acquisti. Di chi si sta parlando? Ora, per alcuni una vendetta, per me è un po' una vendetta, nel senso che a me questo giocatore che il REN ci porterà via, perché di questo stiamo parlando adesso, non mi dispiace come giocatore che fa da supporto a Morata. Noi abbiamo bisogno di un attaccante, è Morata, sarà poi Abram, Icardi e poi la terza punta è Jovic, che è una signora terza punta. Quando è entrato ha fatto sempre bene, non fa reparto, non gli puoi dare la squadra in mano come la potevi dare a Giroud, però quando è entrato ha fatto sempre bene. Ecco il REN, in questo momento, su indicazioni di Stefano Pioli, starebbe trattando Luca Jovic e, secondo quanto riportato da un organo di stampa, che è Le Giornois de la Dimanche francese, che si occupa di calcio, direi, sapete che io sono stato tanti anni in Francia, quindi i riferimenti da questo punto di vista sono abbastanza chiari, però al di là di tutto questo direi che il REN potrebbe guardare anche ad altri giocatori. I giocatori sì, forse che sono in uscita dal Milan, ma non solo quelli che sono in uscita, perché si parla anche di Benasser, quindi Benasser e Luca Jovic. Piccole vendette, dite che non è una vendetta? Ma è un favore? Allora cambiamo la copertina. Grazie Pioli, grazie ai tuoi favori, dipende da come la vedete, io non lo darei via a Benasser. Poi fatemi sapere tra i commenti. Un saluto, ciao!